Sto parlando tutto bene, stanno andando molto bene, abbiamo presentato tutte le liste, adesso stiamo concludendo le ultime. Scusate, quando escono le liste, ovviamente lo vedremo. Allora l'attesa sarà... Non è l'epolino, ma Scillipoti è un Abruzzo? So, perché ancora non escono le liste e quindi... Scillipoti, pare che siano candidati ad Abruzzo, per lei va bene. Non sappiamo, non sappiamo, quando escono le liste ci rifate la domanda. Sesto in Senato in Calabria. Minzolini in Liguria, gli scaioliani minacciano di votare addirittura i candidati di Monti. Adesso vedrete che i criteri che il Presidente aveva dato per la formazione delle liste sono stati tutti rispettati. Un grande rinnovamento, la società civile, le persone... Minzolini è un processo in corso. I parlamentari che hanno avuto un ottimo... Sono stati molto bravi, con l'onorevole Pelino e poi, ovviamente, gli esponenti della società civile. L'onorevole, ma chiedo scusa. Scusate, adesso però... Adesso andiamo a fare i comunicati stampa. Solo una domanda, se possiamo. Ma Cosentino è candidato al Senato in Campania, sì o no? Sinceramente ho parlato solo del Lazio e di Roma e di Fiumicino, sinceramente. Non sa nulla. Quindi non è anche candidato a Silla con lei?